La Re, eccoci qui con Pirati di Caraibi, lettura a voce. Pronti via, La, La, Do, Re, 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 Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Do, Re, E, La, Do, Re, Re, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Re, E, La, Do, Re, 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 Fa, Sol, 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 La, Si, Bemolle, Si, La, Sol, La, Re, E, Re, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Re, E, Re, Fa, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, I, da capo, La, Do, Re, 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 Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Do, Re, E, La, Do, Re, 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 Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Re, E, La, Do, Re, Re, Fa, Sol, 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 La, Si, Si, La, Sol, La, Re, Re, E, E, Re, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Re, E, Re, Fa, Mi, 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 Re, Do, E, Re, Fa, Mi, 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 Re, Do, E, Re, Ok, qua sono io che non ho messo, Fa, Fa, Sol, La, Re, Re, Fa, Eccoci qua, scusate, e lo faccio in diretta, così almeno lo vedete, tavolozza generale, andiamo a mettere il ritornello e poi lo salvo, eccolo qua, quindi bisogna mettere Re, Fa, Mi, quindi numero uno, praticamente il programma non ha sentito questo uno, e quindi non è andato a capo con il ritornello, allunghiamolo, ecco, quindi la prima volta si fa il numero uno, ok, la seconda volta si fa il numero due, ok, così l'avete visto in diretta, ok, due, fino alla fine, ok, così, e voilà, quindi attenzione, prima volta La, Re, E, Re, Fa, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, ok, salviamolo, la seconda volta Re, Fa, Due, ok, quindi la prima volta passo il numero uno, la seconda volta il numero due, vediamo con lo strumento come si suona, allora, attenzione, vediamo un po', se passa, perché non va, ragazzi, anche stavolta non funziona, sì che funziona, allora, vediamo un po', dovrebbe darmi un attimino, eccolo qua, allora, eccoci, forse ci siamo, no, sì, me lo fa vedere, perfetto, ok, allora, attenzione, da capo viene fuori questo, allora, il La si suona su questa posizione, ok, quindi La, terza corda, secondo tasto, quindi La, Do, Re, 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 Mi, corda vuota, Fa, prima corda, fa, 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 sol, Mi, corda vuota, il Re lo recupero qua, Re, Do, Do, Re, poi di nuovo, La, Do, Re, 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 vuota, fa, 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 sol con l'anulare, Mi, Mi, poi Re, Do, Re, attenti adesso che c'è la continuazione, allora, La, Do, Re, Re, fa, quindi, anulare, indice, sol, sostituzione del dito sullo stesso sol, sposto tutta la mano fino al Si bemolle, che posso farlo o col mignolo o scivolando con l'anulare, ok, quindi posso fare questo, oppure, come più comodo, però poi ricordatevi di tornare in posizione, ok, quindi, io lo faccio di sequenza così non mi posso sbagliare, Si bemolle, La, Sol, La, il Re questo sopra, poi sostituzione dito del Re per avere l'indice di nuovo sul Fa, Re, Mi vuota, Fa, Fa, Sol, anzi, facciamo una cosa, Fa, Fa, Sol, lo becco con lo scivolamento, in questo caso, per avere di nuovo La, Re, comodi, ok, rifaccio, Fa, scivolo, sostituzione del dito per chiudere, Re, Fa, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, ricomincia il giro da capo, quindi vado veloce, via, Re, Mi, Fa, 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 Sol, Mi, Mi, Re, Do, Re, La, Do, Re, 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 Fa, Sol, Sol, cambio, cambio, Re qua sopra, cambio dito, Re, Mi, Fa, scivolo, chiusura, e il brano è finito, ok, buon studio a tutti!